Un bel giorno abbiamo conosciuto Michael Emanuel e ora come li abbiamo incontrati perché è stato bellissimo. L'incontro è stato, noi ne venivamo da questi due anni abbastanza rodati perché poi i bambini dell'istituto erano impegnativi. Tant'è vero che quando ci hanno proposto questi due bambini in realtà poi, che non erano dell'istituto, siamo rimasti un po' spiazzati perché non sapevamo poi, tant'è vero che non erano l'istituto e io gli ho detto ma mi scusi, com'è che ci presentiamo? All'incontro ci sarebbe stata una zia, l'assistente sociale e noi. Come ci presentiamo? Perché cosa usciamo? Fuori dalle aiuole come dei funghi. Però poi la cosa è andata talmente, in realtà talmente bene, talmente bene che Katia, l'assistente sociale e la zia sono andate nel bar a prendersi un caffè e mi hanno lasciato solo con Michael Emanuel e solo scivolo. No, è andata talmente bene che era un venerdì e questo non accade, non cadeva mai. Tanto è vero che la zia e l'assistente hanno detto ma volete vederli anche domani? E la cosa che ancora adesso mi resta, che è un mente del giorno dopo, è che noi siamo arrivati a casa loro e loro ci sono venuti incontro come se ci conoscessimo da sempre. E' stata quella la cosa che ci ha spiazzato completamente. E quindi l'esperienza è iniziata così, un po' che non sapevamo, ma poi se le cose funzionano, poi viene tutto naturale. Il primo d'aprile del 1999 loro sono venuti a casa nostra e noi tutti gli anni il primo di aprile facciamo la festa, facciamo una torta e quest'anno sono 25 anni, quindi un bel traguardo. Durante un affido ci sono alti e bassi. La cosa più importante in assoluto è tenere sempre al centro di tutto il bambino, cioè le esigenze sono quelle del bambino, bisogna sostenerlo, bisogna aiutarlo a comprendere perché la sua famiglia d'origine non è riuscita a tenerlo con sé. E comunque noi come genitori affidatari diciamo sempre che bisogna tenere nel cuore anche la famiglia d'origine. Perché sono persone che comunque hanno delle storie difficili, dei disagi, però non bisogna cancellarli. Non bisogna cancellarli perché comunque sono le persone che hanno dato vita ai nostri figli e quindi è giusto rispettarli e in qualche modo tenerli nel nostro cuore. E un'altra cosa importantissima è che appunto per quanto è possibile poi mantenere anche dei rapporti, perché sono importanti anche per i ragazzi. In realtà ci sono, ci sono i momenti di sconforto, ci sono... Però è anche vero che comunque esistono dei servizi che sostengono. Una cosa importante, ecco che ci tengo molto a dire, è che non bisogna chiudersi nel proprio guscio, ma bisogna continuare a frequentare i gruppi di affido, delle famiglie affidatarie, che il comune fa territoriali, e se è possibile anche partecipare a delle associazioni.